musica 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 Se ho chiamo. Ma chi è? Tu mi dice. Beh, non. Minutri amici al pieno di spardo. Non, 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 non. Noi. Ma con te di un'occhio no? E' proprio aiuto un po' di più o meno. Ai tu l'occhio? Mi raceto la prima faccia, sai? Ah, è questo? Non, non, non. ¿Quo mai? No, i raggiù io non mi ricordo, non, i raggiù la mia. grazie Grazie a tutti.